Mi presento sono Activision e oggi siamo su Mega Ok partiamo dal fatto che un sacco di voi mi hanno chiesto nei commenti come funziona Mega e perché non installa i file La risposta è molto semplice ma ci sono due passaggi essenziali che vanno effettuati per appunto riuscire a installare questa cartella su Mega Del link che ho messo in descrizione Partiamo subito col primo step dovete avere un Macintosh perché i file appunto che troverete su Mega o su qualsiasi altro link che io abbia messo in descrizione nei video precedenti Sono relativi al Mac non al Windows ma se volete comunque effettuare questa procedura anche per il Windows è una cosa comunque fattibile Il secondo step è andare sotto il mio video e cliccare il link Il terzo step sarà la pagina che comunque si caricherà Il quarto step sarà andare a cliccare download as zip ma come vedete non succede niente Perché non succede niente? Se andiamo comunque a controllare nel Finder Nei download non effettua nessun download neanche dal browser Non è comparsa comunque la freccetta che va verso il basso per appunto scaricare l'applicazione Allora il quinto step sarà cercare di scaricare questo programma come non andando su Google e scrivendo e Mega Sync Download Perché troverete soltanto le versioni di Softonic e non vanno bene Quindi qua sotto vi lascio il link originale di Mega che comunque è facilissimo anche da sia ricordare che scrivere Mega.nz.sync e vi porta direttamente al sito web ufficiale di Mega e dovrete semplicemente premere il pulsante download Quello rosso in grande sarà automatico se sarete su Windows o su Linux in teoria dovreste comunque premere il pulsante rosso in 9 Se c'è scritto Windows 8 allora premete ovviamente il pulsante Windows nonostante dovrebbe comunque renderizzarvi allo stesso download E non ha un DMG che appunto è quello del Mac Mentre si è finito di scaricare apriamo questo Mega Andiamo a importarlo in applicazioni ma io lo vado ad aprire anche perché lo voglio spostare nella scrivania Così faccio bella figura Possiamo benissimo andare ad estrarre l'installazione che non ci serve Chiudiamo la finestra e andiamolo ad aprire Ovviamente accettiamo Mettiamo la password del sistema dell'amministratore Immagino che voi siete amministratori del vostro computer E andiamo ovviamente a fare un login Dopo che avete avuto accesso alla versione desktop o anche prima nel mentre scaricate Mega Potete comunque crearvi un account ci vogliono due secondi E adesso io vado a fare il login perché se no non possiamo comunque andare negli step successivi Una volta che avete effettuato l'accesso Vi dovrebbe chiedere ma a me non me l'ha chiesto di fare una sincronizzazione completa o parziale Dei fare la scelta Una volta dentro l'account non dovete fare nient'altro A parte ritornare allo step 4 Quindi andiamo a riaprire il nostro Safari Ritorniamo sul link sotto il video di Creative Cloud che comunque vi metterò anche sotto questo video E andiamo a premere il pulsante Download as a zip Sembra che non è successo niente ma in teoria se andate su questo pulsantino qua in alto a destra E vi chiederà comunque in automatico dove andrà a scaricare i file In questo caso creerà una cartella in più Ovviamente aggiungiamo questa cartella sempre come destinazione Andiamo a premere l'ok Come vi stavo dicendo qua sopra questo pulsantino vi farebbe vedere i trasferimenti che stanno accadendo in quel momento Ma visto che si tratta letteralmente di neanche un paio di Mega Non vi farà notare quasi niente perché è stato quasi istantaneo Infatti la seconda parte un po' più nascosta è andare a cercare questa cartella che Mega ha appena creato Quindi andiamo su Finder Premiamo la combinazione di tasti Command, Shift e G Per andare a cercare la cartella Che in teoria si potrebbe trovare anche in un altro modo Ora vi spiego come Andiamo a premere questa specie di sventolina Slash E andiamo a scrivere il nome della cartella che abbiamo visto prima Appunto Mega Sync Downloads Ora non so perché me lo danno in automatico Ma meglio così Andiamo a premere Go E ci troverà come vi stavo dicendo Semplicemente andando su questa cosa che si può aggiungere tramite il Customize Toolbar Che l'avevo spiegato nel primo video del mio canale Andate comunque a prendere questo pulsantino E lo andate a premere Andate sul vostro profilo dove c'è il simbolo della casetta E comunque vi riendirizza appunto a tutti i file folder del vostro account E ci sarà appunto anche la cartella Mega Sync Downloads Come vedete è stato istantaneo E ci sono tutti i framework Che comunque dovreste trovare Vi si installeranno in un batter d'occhio Questo è tutto il processo Che bisognava effettuare quindi il download e la ricerca della cartella Non vi avrebbe installato il file Mega sui download basilari Ed è comunque anche, non lo so, questo programma è strutturato così Viki ha creato una cartella per i download automatico E questo è, non c'è niente da fare Con questo abbiamo concluso questo piccolo tutorial di come scaricare i file tramite Mega Vi volevo ringraziare delle V-Eason E noi ci vediamo in un prossimo video Grazie a tutti